qualche idea per delle bruschette burro fatto in casa adesso super spalmabile con le acciughine sott'olio una classica che sproffiniamo con dell'aglio dappertutto ma tanto e devi sapere un sacco d'aglio tipo che ce l'ho grattugiato sopra brava così si fa olio più buono possibile e poldorini che hanno macerato con olio basilico e basta la bellezza e l'ultima con l'anduia che ora ricopriamo con la stracciotella e pronti partiamo da burro e acciuga mi auguro da solo e spaziare buono e basta è una cara è buonissima i quali quali mancherai ancora un pochino di anduio mamma mia buona miglia quindi questo che è più normale forse avrei dovuto mangiarlo prima un po competere con il burro e acciughe in due euro la stracciotella come fa buono ma decisamente non è il pezzo forte è buono la stracciotella porca trovato è buona la stracciotella ecco 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 miagliano so miagliano so